Io ho fatto il suo esame, ho preso 27, non c'è più niente che ci lega probabilmente. Posso darla del tu? Datemi del tu. E si gode! Ok, allora come prima cosa volevo chiedere, chi è Bruno Surace? Sono io. Onesto, quindi? Che hai risposto quello che ti immaginavi. Più che altro volevo chiedere, come si arriva a diventare Bruno Surace? Cioè come si arriva ad avere un proprio ufficio nei piani alti di Palazzo Nuovo? E tra l'altro cosa simpatica è che in base al piano c'è una gerarchia anche di come vengono gestiti i fondi, tipo abbiamo Palazzo Nuovo, queste sono sedia notte e tutto quanto. Terzo piano? Già un po' meglio. Quinto piano c'è proprio, ci sono le sedie con le poltrone comode, la stampante messa nell'angolo. No, questa è una cosa che in realtà voi che avete studiato un po' di cinema mutuate dal cinema, cioè l'idea che la verticalità corrisponda anche a delle gerarchie di potere. Non è così. Fra l'altro io non occupo in effetti nella gerarchia accademica, sono ai pieni passi ancora di fatto, non è che sia così in alto, anzi vi do anche la dicitura tecnica. Io sono un ricercatore a tempo determinato di tipo A, che è una dicitura molto complicata. Io non dico Bruno Surace che non mi piace parlare di me in terza persona, dico io, quindi sono un signore, un tempo un ragazzo che ha studiato un anno ingegneria informatica, poi ho capito che non era il mio luogo il politecnico, non ve lo nego con una certa sofferenza perché comunque ho affrontato un fallimento, cioè per me quella fase lì è stata una fase dolorosa in cui io pensavo di aver preso una strada che poteva funzionare per me, invece così non è stato. Ricordo ancora gli incubi che avevo, anche degli incubi molto classici, sognavo di non aver fatto l'esame di maturità, insomma ero in una fase molto brutta e poi decisi di fare scienze della comunicazione, che è notoriamente scienze delle merendine, che è una specie di, io uso ancora il termine facoltà anche se è decaduto, che raccoglie un po' di tutto, questo si vede anche nei numeri di persone che raccoglie, cioè i matricolamenti sono sempre di più. E quindi io ero già all'epoca consapevole del fatto che per uscire bene da quella facoltà dovevo impegnarmi molto, cosa che ho fatto fin dall'inizio in realtà. Io ho iniziato a studiare con grande passione, che è una passione che in realtà mi portavo dietro già da prima, io ero sempre stato da un lato uno che studiava molto, dall'altro un personaggio un po' scapigliato, per cui studiavo ma non ero proprio il secchione tipico, ero uno che mentre studiava avevo la rock band, mi divertivo a fare una vita divertente come tutti, però ho preso molto sul serio quel percorso, anche avendo sulle spalle quel fallimento che col senno di poi non era chissà cosa, però all'epoca vivevo con una pesantezza particolare. Un po' la capisco perché anch'io ho fatto un anno di Politecnico ed è stato tremendo, perché tu arrivi a anche dare una certa aspettativa, pensa ai genitori. Certo. E il fatto di rimanere un po' con un paracluso sulle spalle, perché parliamoci chiaro, usciti dal Politecnico, mal che vada comunque un posto riesci a cavartelo per il ruolo da ingegnere che hai. Certo. In quel periodo come hai realizzato che non era il tuo percorso? In quel periodo ero infelice, poi c'è un aneddoto che io racconto quando mi chiedono questa cosa che secondo me è molto indicativo. All'epoca dentro il Politecnico c'era una cosa che io trovavo sensazionale, cioè c'era una macchina che consentiva di noleggiare i film, come un vecchio videonoleggio, un cabinato, e tu con la tessera universitaria li potevi noleggiare. Questa cosa mi esaltava, perché io in realtà ero già un appassionato di cinema da ben prima, io ho sviluppato questa passione in età infantile sostanzialmente, e quindi io tutti i giorni andavo a lezione, noleggiavo un film, lo guardavo la sera, poi lo riportavo in questa macchinetta, fino al giorno dopo, non c'era Netflix, stiamo parlando di anni precedenti, cioè c'erano i film, li scaricavo come tutti, però li guardavo anche in DVD. Ebbene, un giorno vado dai miei compagni di classe dell'epoca e gli dico avete visto c'è questa macchinetta, una figata? E la loro risposta fu quasi stizzita, cioè mi fecero capire che era un po' una scemenza andare dietro con la macchinetta, no? Allora lì immediatamente capì che non era esattamente il mio ambiente quello, forse perché ho trovato le persone sbagliate io, questo non lo so, però capì che c'era un approccio, come dire, al mondo extrascientifico che non mi piaceva, che ero più orientato dall'altra parte. Dall'altro lato mi interessava, io facevo ingegneria informatica, mi interessava molto l'argomento, però non ero nel mood più. Io mi sono accorto che non ero nel mood e c'era qualcosa di compromesso, quindi dopo 4-5 mesi, dopo aver dato fra l'altro un paio di esami, uno dei quali era analisi 1, mollai, mi sono preso qualche tempo. Non era neanche un discorso per i genitori di per sé, perché i miei mi hanno sempre lasciato abbastanza libero, cioè hanno visto probabilmente all'epoca che ero in difficoltà, non hanno infierito, però era un discorso con me stesso, cioè in quel momento ti senti perso. E tenete conto che questa cosa avveniva intorno al 2009. Non era il mondo di oggi, cioè non c'era ancora quell'idea di performatività che domina nella società contemporanea. Io già sentivo quel peso del fallimento. Mi chiedo effettivamente a un ragazzo di oggi quante volte in più lo possa sentire in una società appunto che è molto più giudicante, fa molto di più i conti in tasca alle altre persone, quindi se tu ti perdi per strada veramente sembra che sei finito. Quindi immagino la sofferenza che ci sia oggi. Anche per questo il mio è un approccio, come dire, qua c'è un salto temporale, a un certo punto ho studiato molto e a un certo punto sono passato dall'altro lato della cattedra. Io appunto poi ho preso la laurea triennale in comunicazione, poi ho preso la laurea magistrale in comunicazione e culture dei media, che è il percorso naturale di laurea magistrale dopo la triennale, e io lì avevo già sviluppato un desiderio per fare un dottorato di ricerca poi. Mi piacevano tutte le materie, mi piaceva molto il cinema, come sempre. Avevo sviluppato un amore particolare per la semiotica, avevo voglia di mettere assieme questi due mondi e io il giorno dopo della mia laurea magistrale ho fatto immediatamente il concorso, il giorno dopo, per il dottorato. Ho potuto studiare, imparare a fare la ricerca e essere anche stipendiato con una borsa mensile che valeva da stipendio, cioè ero entrato nella dimensione più lavorativa del percorso universitario. E poi finito il dottorato io ho iniziato subito a insegnare, vincendo dei concorsi di nuovo per delle docenze a contratto, io ho ottenuto il mio primo corso a 27-28 anni, la mia prima classe. Ora ne ho 33, quindi sono sei anni che insegno in università, ho insegnato varie cose e poi insomma tante altre tappe su cui non mi dilungo nel mezzo fino ad arrivare a questa posizione di cui parlavamo prima che è una posizione come dire distrutturato effettivamente dentro l'università ma ancora precaria. Io ho ancora delle cose da fare prima di poter essere un inquadrato a tempo indeterminato nell'università. Questo è il lato formale, il lato invece sostanziale che è quello che mi interessa di più. Mi sono trovato immediatamente a passare da chi era dietro i banchi a chi era dietro la cattedra, sicuramente molto giovane, quindi riuscendo anche a capire i sentimenti di chi c'era dall'altro lato dei banchi. Questo ha orientato un po' il mio approccio anche all'insegnamento che è un approccio in realtà molto severo. Chi ha dato il mio esame con me lo sa, il mio esame è molto pesante. C'è tanto da studiare, c'è tanto da guardare, tanto da seguire. Le mie lezioni sono estremamente dense perché io considero che il tempo che condivido con la classe sia tempo prezioso per entrambi, quindi bisogna quagliare il più possibile. Poi, se posso veramente, una cosa interessante dei tuoi corsi è che riesci comunque a mettere una parte di comunicazione contemporanea come magari l'analisi di un meme su TikTok, che effettivamente potrebbe sembrare un qualcosa di slegato dalla realtà, però adesso che siamo nel 2024 comunque è impossibile negare che i media come i social siano qualcosa di esterno alla realtà. Anzi, abbiamo visto più volte delle conseguenze da parte dei social che arrivano veramente a toccare la realtà. Stiamo parlando di temi complessi come magari il cyberbullismo, ovviamente una parola che esiste già da tanto tempo. Oppure anche semplicemente delle dinamiche economiche che non esistevano prima. Parlo per esempio del verificato su Instagram. Cioè, se una persona anni fa avesse detto devi pagare 8 euro per avere un 6 pixel in più vicino al tuo nome fittizio di un social, che è qualcosa che non puoi toccare, era follia. Mentre adesso avere un simbolino azzurro vicino a un nome può diventare anche un modo di prestigio. Oppure di prendere addirittura clienti, se stiamo proprio parlando di persone che usano i social come spunto per promuovere la propria attività. Certo, sì sì. No, beh, allora il punto è, io credo, ma questa è una cosa, diciamo, personale, che chi si mette a insegnare all'università materie che hanno la parola comunicazione dentro debba avere uno sguardo, diciamo, strabbico sul mondo. Cioè, deve guardare da due parti contemporanee. Da un lato deve avere sempre l'occhio puntato alla stretta contemporaneità. Anche quando non ci piace. Perché molte delle cose che io, di cui io parlo, nella mia vita personale, mi interessano molto poco in realtà. Però mi rendo conto che quella è la realtà. Altro che cavoli, slegato dalla realtà. Un meme su TikTok è un oggetto potentissimo oggi. Ha una capacità di orientare moltissime cose allo stesso tempo. Come dicevate voi giustamente, c'è un circuito economico dietro. Che è un circuito che viaggia su binari immateriali. Il bollino blu del verificato, il like, la sub su Twitch, quello che volete. Passa per binari immateriali, ma diventa immediata materialità. Perché è denaro che circola, è nuove professioni. E poi orienta movimenti del pensiero, dell'opinione politica. Quindi ha degli effetti drastici sul mondo. Se noi non accettiamo anzitutto questa cosa, partiamo col piede sbagliato. La prima cosa è accettarla. E poi è cercare di capirlo. E per capirlo bisogna appunto avere, perché dico, uno sguardo strabico. Perché tu la capisci nel momento in cui l'altro occhio però invece riesce a cercare di... Si concentra su quelle cose che ci sembrano non esistere più. Ma che esistono ancora. TikTok è una piattaforma che è il risultato di 20 anni di storia di piattaforme di internet. Che sintetizza 20 anni di piattaforme. Bisogna capirla questa cosa se si vuole capire oggi come funziona TikTok. Dentro TikTok c'è una parte di cinema che funziona bene, ma funziona bene da 130 anni. Da quando è nato il cinema. Cioè qui... Vi ringrazio per la domanda perché mi fa smontare l'idea di scienza della comunicazione come scienza delle merendine in realtà. Allora è vero che il corso di laurea è un corso di laurea che per sua vocazione raccoglie gli indecisi, diciamo, in parte. Però c'è un motivo se c'è questa attenzione in realtà profonda e questo successo in termini numerici del corso. E che più o meno tutti ci stiamo accorgendo che sicuramente l'era contemporanea è l'era dove la moneta corrente è la comunicazione. Dove tutto sempre di più e sempre più rispetto a prima passa attraverso il mondo della comunicazione. Quindi è importante avere delle persone che siano formate per capirla prima ancora che per lavorarci dentro. Questo magari anticipo delle cose che poi vi interessano sul lavoro eccetera. E ho paura che potrei darvi risposte poco soddisfacenti per voi ma vedremo. Però sì, ecco, bisogna fare attenzione. E quindi le mie lezioni sono sempre orientate a... Da un lato bisogna conoscerle alcune cose del passato. La storia ha una sua rilevanza. Io parlo sempre della storia in termini volumetrici. Cioè ha una profondità che noi possiamo attraversare. E far finta che la storia non serva è un errore di metodo. La storia è fondamentale. Il nostro approccio alla storia è importantissimo. Però io ho davanti delle classi di persone giovani che abitano in questo mondo e che hanno bisogno di sapere, ok, perché mi sta insegnando quello che... Perché è importante parlare di Kubrick oggi? Perché è molto bello. Sì, e già questo non è poco. Perché, fate attenzione, una parte della nostra esistenza dovrebbe essere anche votata a capire che cosa è bello e che cosa fa schifo e imparare ad apprezzare il bello. Quindi i gusti si discutono, che è una cosa su cui... Ma certo che i gusti... Gusti disputando mest, altro che cavoli, no, no. I gusti si discutono nel rispetto dell'altro, che è il punto di partenza. Però sì, anzi, il nostro lavoro è discutere i gusti. Perché ci interessa capire come si formano i gusti. Cioè, perché nel 2024 Sanremo è stato così guardato da una platea di pubblico anche molto giovane che è una cosa che non succedeva dieci anni fa. Com'è possibile che c'è stata una risalita di apprezzamento nei confronti di Sanremo? Questa è una questione di gusto, ma in realtà ci interessa perché ci fa capire dinamiche culturali anche molto profonde, no? Quindi i gusti si discutono, poi non si giudicano. Nel senso che per fare un lavoro di giudizio sui gusti lo fai con i tuoi amici e questo è un altro discorso e va benissimo. Però il nostro lavoro è discutere i gusti, è come no? Io posso chiederti due cose. Mi è venuto in mente... Un giorno ti ho seguito in un podcast e tu hai detto io mi definisco un pessimista. Come ti definisci? Perché pessimista poi può avere più sfaccettature. Ma adesso non mi ricordo quando l'ho detto, tu ti ricordi anche proprio... Sì, era uovo sodo ed era l'episodio sulle catastrofi. Ti veniva chiesto, la catastrofe è vista solamente in maniera negativa oppure può essere anche una cosa positiva? E tu facevi un esempio quasi di Sadomaso. E poi dicevi, io però ho sempre una visione pessimistica della vita e delle cose. Allora, il pessimismo, l'ottimismo sono delle posture che noi assumiamo che cambiano in base anche al tempo, al periodo storico. Se dovessi valutare lo stato attuale del mondo che abitiamo confermo una visione pessimista ma non di pessimismo rispetto al futuro che è una cosa che io non posso prevedere ma sicuramente di pessimismo rispetto al presente. Io non sono per niente contento ed è un paradosso perché noi viviamo in realtà nel tempo questo è scontato. Più è voluto da un punto di vista tecnologico più è voluto da un punto di vista anche culturale volendo però molte delle cose che io vedo in questo mondo non mi piacciono per niente. Qua il discorso diventerebbe politico ma possiamo anche intenderci cioè un mondo che da un lato come dire ha sviluppato mezzi potentissimi e raffinatissimi in questi ultimi tempi si parla molto dell'Apple Vision Pro e che è una cosa incredibile con tutti i suoi difetti con tutte le sue cose però è un oggetto straordinario che contiene dentro di sé una quantità di tecnologia gigantesca molteplici quantità di tecnologie diverse convivono in questo oggetto tu dici che è bello un mondo del genere dall'altro lato ci sono molte guerre in corso molto sanguinarie guerre peraltro combattute in maniera molto novecentesca se non ottocentesca cioè ancora con persone che si ammazzano certo sono state integrate tecnologie molto moderne per cui oggi abbiamo anche i droni che intervengono nelle guerre però ci sono delle guerre terribili in corso che sembrano destinate come dire a un'unica via possibile che è la distruzione totale dell'altro l'assimilazione totale dell'altro eccetera la situazione diciamo climatica mi spaventa molto ci sono delle cose che mi spaventano molto per cui io applico un pessimismo del presente non è che lo applico lo sento cioè c'è un ottimismo anche in me io sono molto fiducioso allora intanto entrando nel mio campo che sono i mezzi di comunicazione anche i mezzi di comunicazione per come funzionano oggi non mi fanno impazzire perché di nuovo sono potentissimi ma spesso sono poi ridotti a delle formule di conflitto fra persone che funzionano molto bene danno molto denaro ad alcuni pochi ma per il resto non sono un gran che però io sono molto fiducioso nelle nuove generazioni vedo i passi avanti che hanno fatto le nuove generazioni rispetto a dei temi la sensibilità che hanno sviluppato rispetto a cose impensabili cioè quindi mi piace sperare che in futuro ci possano essere delle speranze appaltate a queste nuove generazioni e questo penso che sia il mio lavoro il mio lavoro penso sia essere una specie di ponte che dà degli strumenti a chi verrà dopo di me per interpretare il mondo e per provare a mettere delle toppe nei buchi del mondo che attualmente io vedo questo sarebbe il mio sogno nel mio piccolissimo nel mio margine se tutti provassimo a fare questo forse avremmo un po' più di speranza però mi avete portato in un territorio molto brutto io ti ho portato in un territorio brutto perché volevo farti una domanda specifica io sono un grandissimo appassionato del cinema di Cronenberg quello che mi spaventa tanto è che un uomo magari un visionario negli anni 80 70 abbia pensato delle cose che per assurdo seppur abbiano shiftato dei media quindi non è più la televisione ma è web siano più attuali ora che quando ha scritto prodotto e diretto il film un film come Videodrome che è uno dei miei film preferiti forse anche un po' il suo classicone riguardandolo adesso ha sia tante citazioni sia tanti spunti di riflessione che ti fanno dire cavolo sembra scritto negli anni 90 inizio 2000 e invece si parla di molto prima beh stiamo parlando non a caso di un genio di un cineasta che intanto va detto Cronenberg canadese conosceva bene le teorie di McLuhan conosceva il lavoro sui media teorico che si era fatto in anni precedenti in realtà a Videodrome quindi lui non partiva come dire vergine rispetto al discorso dei media lui partiva con un certo tipo di background culturale molto preciso quindi noi dobbiamo leggere Cronenberg non solo come un cineasta ma come un saggista in sostanza cioè uno che ha usato il cinema per scrivere dei saggi anche sui mezzi di comunicazione e Videodrome è forse il caso più plateale però in realtà lui è andato avanti anche le ultimissime cose fino a Cranks of the Future l'ultimissimo sono orientate a quel discorso e poi ha avuto sicuramente una capacità di leggere in maniera critica i media attenzione però non come dire non bisogna mai secondo me assumere l'atteggiamento del panico morale cioè distruggere i media in quanto tali perché noi stiamo facendo ora un podcast stiamo parlando questa cosa finirà come si diceva un tempo nell'etere qualcuno l'ascolterà qualcuno la userà per pensare qualcuno potrebbe insultarci queste sono le regole di ingaggio attuali però non stiamo facendo nulla di male forse stiamo facendo qualcosa di bene perché stiamo mettendo a disposizione una nostra conversazione ad altri una conversazione pacifica dove ci confrontiamo quindi il medium di per sé non ha una colpa specifica il modo in cui si adopera il medium può essere strumentale e quindi può diventare poi colpevolizzare il medium diciamo Cronenberg in Videodrome lo faceva con la televisione in effetti ma molte cose oggi sono replicate nel mondo online mi invito a una piccola riflessione voi pensate che la tele sia morta ma la televisione non è morta anzi tutto il contrario intanto le grandi industrie televisive esistono esattamente come esistevano prima siamo a pochi metri dalla RAI Mediaset continua il suo lavoro cosa hanno fatto? si sono adattate hanno rilocato alcuni dei loro contenuti online la RAI ha una piattaforma che è Rayplay su cui ci sono contenuti dedicati specifici fra l'altro anche interessante come piattaforma una piattaforma direi di discreta qualità quindi da un lato la televisione ha saputo come dire da un punto di vista industriale adattarsi ma cosa più sottile i linguaggi della televisione sono ancora estremamente presenti noi oggi Umberto Eco parlava di neotelevisione noi oggi siamo nella neo-neotelevisione Twitch è la televisione di chi non guarda la televisione tradizionale diciamo che Twitch ha anche un funzionamento molto più selettivo nel senso sei te che vai a scegliere lo streamer da seguire che però effettivamente assomiglia al linguaggio del scelgo il mio canale preferito e il mio allora attenzione perché non è neanche così vero non è neanche così vero cioè sì tu ti vai a cercare il tuo streamer preferito se ti interessa quella cosa però le dinamiche dello zapping sono replicate intanto dall'interfaccia quando tu entri su Twitch ti si apre una varietà di contenuti e tu vai un po' anche a casaccio se non sei mirato a cercare una cosa e poi in realtà in un sistema transmediale da Twitch si passa a TikTok TikTok non ti dà quello che non sei tu a cercare TikTok è TikTok che cerca te che ti offre una serie di contenuti a manovella a nastro profilandoli su di te in vari modi non entro nel tecnico no comunque quindi le dinamiche non sono proprio cioè è vero che c'è un potere di più lasciato in mano all'utenza e questo è sicuramente vero però non è esattamente come dire che l'utenza ora è onnipotente anzi tutt'altro rimane sempre succube no succube no perché se dici succube dici una cosa sbagliata rimane sempre cooperativa diciamo però oltre a questo c'è anche un discorso di linguaggio ad esempio una cosa che si è inventata la televisione è la comunicazione urlata la televisione ha capito a un certo punto che urlare funzionava visticciare funzionava picchiarsi no questo ha prodotto delle cose molto carine il wrestling no la più grande forma d'arte probabilmente mai concepita ma d'altro canto ha prodotto invece degli abomini cioè noi abbiamo i talk show dove le persone si urlavano addosso sgarbi no eccetera queste dinamiche sono esattamente dislocate online online ci si dissa no si litiga per creare content come si dice no e c'è anche chi ci lucra sopra facendo proprio repliche e tutta la spiegazione dei vari video e poi c'è tutto il discorso del meta internet che è appunto guardare youtuber che guardano youtuber guardare twitter quindi le dinamiche linguistiche della televisione anche quelle più nocive sono perfettamente passate negli altri media la televisione non è morta la televisione vive e lotta in mezzo a noi solo che oggi abbiamo più televisioni e più mezzi il nostro compito almeno di chi studia questa roba è capire come funzionano queste cose cercare di far capire agli altri come funzionano e proporre idealmente delle alternative parlando sempre di tecnologie nuove sorge spontanea una cosa che è uscita veramente pochi giorni fa che è una nuova intelligenza artificiale chiamata Sora non so se ha visto i video sono davvero incredibili ma allo stesso tempo spaventosi all'inizio mi ricordo che bazzicando un po' su internet si diceva tra 5 anni vedrete però rimane un po' diciamo un termine di tempo che sembra veramente immenso però dopo aver visto i progressi che sono stati fatti penso in un anno neanche vedendo questo realismo che ha sempre delle pecche penso che stiamo davanti a qualcosa che potrebbe cambiare il cinema dello spettacolo perché se una persona tra penso anche 3 anni potrà veramente farsi il suo Batman contro Superman con tutti gli effetti che la Marvel può usare con milioni e milioni di dollari quindi è possibile che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non nel cinema ma nella vita di tutti i giorni abbia delle ripercussioni nel cinema sì allora finito questa storia che è sviluppata da OpenAI che è la stessa che ha sviluppato tutte le principali intelligenze artificiali di cui si parla di più quelle più mainstream promette risultati sorprendenti e io credo che da un punto di vista visivo sarà così ed è inevitabile come Thanos è ineluttabile ora noi con l'inevitabile è inutile che combattiamo solo uno sciocco si mette a combattere con una cosa che sa già che andrà così bisogna cercare di scendere a patti con questo sistema allora un paio di cose random primo c'è stato qualche mese fa uno show pro Hollywood di cui forse avete sentito parlare che è durato anche molto attori doppiettori insomma c'è un po' di fermento uno dei motivi che erano dietro questo show però riguardava l'integrazione dell'intelligenza artificiale nella produzione del cinema no? perché? perché se tu prendi Robert De Niro a fare un film diciamo che allochi molto budget per pagarlo per tenerlo e tendenzialmente lo usi più che puoi e lui è il protagonista però poi Robert De Niro non basta per fare un film ha bisogno di tanti attorini di contorno che tendenzialmente venivano pagati diciamo a giornata quindi dieci giorni di set per fare varie cose minori ma importanti per fare il film dieci giorni di paga con le intelligenze artificiali tu li pigli un giorno le scansioni eccetera e poi li replichi e quindi li paghi un giorno ora questo è uno dei problemi cioè di cui si parla poco l'intelligenza artificiale può fare diminuire il lavoro umano però comporta delle forme poi di sfruttamento dell'immagine per le quali bisogna comunque capire come trovare un modo per supplire da un punto di vista economico se no appunto tu mandi in rovina delle persone ma anche pensate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale non lo so nella produzione dell'animazione giapponese sapete che c'è un tema o credo sappiate i mangaka o chi lavora negli anime giapponesi spesso si ammala perché lavorano troppo c'è anche la morte da troppo lavoro sì sì lo sfruttamento dei salari in giapponesi eccetera ora alcuni grossi gruppi integrano magari l'intelligenza artificiale questa cosa dovrebbe aiutare non è che aiuta cioè ok siccome l'intelligenza artificiale ti colora i frame tu non è che quel tempo risparmiato per colorare i frame dormi fai un'altra cosa capito quindi cioè uno dei punti è in che modo l'intelligenza artificiale viene integrata nel sistema economico io credo che questo sia un problema grosso poi altri problemi legati all'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale consentirà di fare esattamente quello che dicevi tu cioè io posso in breve tempo e con nessuna competenza specifica se non quella di scrivere un prompt farmi il mio personale film Batman vs Superman che è un film che altrimenti avrebbe richiesto un impiego gigantesco di denaro per fare i VFX appaltare a delle aziende specializzate insomma oggi nella produzione del cinema le cose più costose sono gli effetti visivi gli effetti speciali perché sono effettivamente lavori lunghi sarà capace l'intelligenza artificiale di fare la stessa cosa sul piano drammaturgico cioè per quanto riguarda le storie questa è la prima domanda perché l'esperienza del cinema è un'esperienza solo visiva o è un'esperienza anche narrativa emotiva cioè questo è uno dei punti secondo me su cui noi dobbiamo riflettere forse non non ci spingerà in qualche modo a rinterrogarci su cosa ci piace guardare e cosa non ci piace guardare perché se ci piace guardare solo ed esclusivamente Batman vs Superman lo farà lei e potremo guardare quanto vogliamo ma forse ci spingerà a chiederci ma ci sono dei film più piccoli meno costosi su cui appunto non c'è un effetto speciale ma c'è un lavoro sulla storia molto interessante che vale la pena di ricominciare a guardare io penso che questa sia una via positiva che noi possiamo perseguire c'è tanto cinema piccolo in termini di budget che non ha nessun interesse a fare Batman vs Superman ma che ha interesse a sviluppare un discorso del cinema diverso per il quale l'intelligenza artificiale non è preparata perché l'intelligenza artificiale che scrive storie non può scrivere ad oggi e io dubito anche in futuro una storia così bella come quella che nasce dall'estro umano io questo sono abbastanza convinto che rimarrà immutato anche se anche io uso cagpt per farmi rispondere alle mail appunto però per farmi rispondere alle mail c'è gpt anche la versione plus a pagamento che è integrata con gpt4 quindi il più avanzato dei sistemi di gpt scrive delle storie pietose forse inizieremo a dire ok il cinema la dimensione visiva del cinema in questa fase storica è meno rilevante che altre dimensioni quella narrativa quella ideologica possibili altre dimensioni che ci sono sotto perché il cinema non è una cosa sola è molte cose mi fermo qui una cosa a cui ho pensato comunque penso sia d'accordo anche tu lui è un ragazzo che fa animazione quindi oltre a studiare qua studia anche alla scuola della comics qui a Torino e quindi penso che abbiamo affrontato anche l'argomento con un fumettista Pietro Zemele che ci dice in realtà è impossibile anche sottrarsi all'ignorare cioè non puoi nasconderti in una stanza e dire non esiste certo addirittura nelle case di produzioni maggiori come Disney o DreamWorks viene usata però come strumento oddio a volte ci sono anche degli abusi però sostanzialmente viene presa come un diciamo una possibilità in più per avere più idee però c'è sempre l'intervento umano nel decidere quali prendere e quali no ma non nell'uso e basta se la possibilità di avere già delle opere finite d'arte è in mano a tutti quindi non hai più questa volontà di andarti a vedere delle cose spettacolari ci sarà forse una nuova tipologia di pubblico che andrà a chiedere nuove cose al cinema cioè è possibile che il cinema al cinema venga chiesto magari più qualità narrativa rispetto è quello che dicevo prima sì sì è quello che dicevo prima ed è una possibilità secondo me è la migliore delle possibilità forse anche la meno probabile guardando più che altro il cinema di adesso ma questo dipende nel senso che ad esempio il cinema di adesso è un cinema schizofrenico in termini di pubblici cioè pubblico premia delle cose che sono spazzatura ma anche delle cose che non sono spazzatura i film di cui si è più discusso ultimamente nell'ambito mainstream e blockbuster sono Oppenheimer Barbie Poor Things questa è una triade di film su cui ognuno può avere un proprio giudizio personale ma sicuramente non stiamo parlando di film intanto se sono film così dibattuti un motivo c'è sono film che hanno qualcosa da dire che ci fanno dire qualcosa quindi questo è già un buon punto di partenza poi litighiamo Barbie è brutto Barbie è bello Poor Things non è il capolavoro che uno pensa eccetera però intanto il pubblico ha premiato anche perché c'è stato un grosso marketing ma questo è di nuovo le regole di ingaggio ci può piacere o no ma è così esattamente come si diceva prima cioè non possiamo nasconderci dietro il velo e dire no questa roba non esiste questa roba esiste e nostra responsabilità forse addirittura morale è provare a farla funzionare nel migliore dei modi fammi dire un'ultima cosa la cosa interessante era del discorso che facevi tu usare come strumento le nuove tecnologie questo è verissimo tanto che da quando sono saltati fuori questi questi strumenti si è già iniziato a riflettere su ma allora l'artista che ci sta a fare forse è possibile che una parte dell'arte non sarà più nella produzione ma nella sovraintendenza o nella nell'interpretazione del prodotto finito cioè l'artista da produttore diventa interprete di quello che è uscito diventa colui che decide se quello che è stato sputato fuori dall'intelligenza artificiale è meritevole di essere pubblicato o meno va modificato o meno o anche nuove forme d'arti il prompting cioè la capacità di scrivere il giusto tipo di domanda al software che poi ti crea l'immagine e quello è un processo nuovo in un certo senso che entra quindi in realtà il terreno è molto fertile ci chiede però di cambiare e nell'ambito dell'animazione si citava prima Disney cioè il problema di Disney degli ultimi anni e sappiamo che ha avuto dei problemi che ha dei problemi Disney non è da un punto di vista tecnico i film di Disney da un punto di vista tecnico quale più quale meno sappiamo che quando esce un film Disney tendenzialmente a meno che le cose non siano andate molto storte comunque rispetterà dei minimi requisiti di qualità standard i problemi sono stati tutti i narrativi cioè questi sono tutti i film pensati male non fatti male quindi anche se tu metti un'intelligenza artificiale non degli umani ti uscirà un film di merda perché quello è un film che è pensato male in partenza perché il Pinocchio di Robert Zemeckis di cui ho parlato anche a lezione è un film brutto in culo brutto in culo io volevo chiederti una cosa sull'insegnamento allora io fin da piccolo ho patito molto una caratteristica che hanno da prima le maestre poi i professori e adesso ho più o meno riscontrato anche l'università con i docenti universitari molto spesso si tende ad avere persone che ricoprono il ruolo del professore che io ritengo essere sempre importante al pari del medico al pari di lavori che vengono ritenuti necessari per le fondamenta della società ci sono teste molto poco dedicate all'insegnamento nel suo stato più puro magari trovi persone veramente tanto qualificate nella materia hanno studiato davvero tanto sono davvero tanto preparate però poi fanno fatica a entrare in connessione con gli studenti piuttosto che fanno fatica a insegnare proprio nel vero senso della parola è un'altra roba che vedo manca molto è l'empatia verso gli studenti poi probabilmente è un discorso scontato nel senso che vari da professore a professore questa cosa c'è in tutti i campi non è solo il professore mi spiace però che venga presa sotto gamba la questione cultura e non solo dal punto di vista di insegnamento ma anche cinematografica in generale musicale c'è sempre più una fetta di massa che diventa sempre più grande sempre meno interessata alle cose probabilmente è data dai maestri di vita che abbiamo quindi i nostri professori e le nostre maestre e poi data anche tanto dall'intrattenimento che abbiamo lei che anzi tu che sei un professore dell'università e hai vissuto tutti gli step studente e professore noti questa cosa qui noti un diverso una diversa risposta da parte dei tuoi studenti alle tue lezioni e magari poi tu ti confronti con dei tuoi colleghi e noti un altro tipo di risposta oppure la pensi diversamente io gestisco grandi masse di studenti classi molto numerose e difficili da gestire perché numerose cioè quando tu hai 300 persone davanti allora tu devi entrare in un'ottica per cui stai lavorando su una massa che è diversa da 50 che è diversa da 10 ci sono delle cose che puoi fare e delle cose che non puoi fare perché non puoi farle proprio logisticamente cioè tu non puoi come dire aprire un dibattito collegiale con 300 persone ti ci puoi sforzare però la prima cosa che devi fare è tenere queste persone attente e in silenzio perché se no è finita cioè quindi questa è la prima cosa e quindi ti richiede di sviluppare un metodo di insegnamento che sia capace di tenere molto ferma l'attenzione magari fare ridere ogni tanto la classe estemperare fare la battuta mettere delle cose molto serie intervallarle con delle cose meno serie che danno un attimo di respiro e così fai andare avanti anche perché faccio spesso lezioni di tre ore quindi anche anche lunghe quindi dipende intanto dalla quantità di persone che hai davanti e se devo fare un giudizio sulle mie classi i miei studenti io ogni anno ho un'impressione diversa diciamo generale ci sono anni in cui sono più contento di come è andata anni in cui dico ma forse su certe cose non li ho non li ho catturati però il mio il discorso che faccio è sempre autocritico prima che critico cioè se un anno percepisco che alcune cose non sono riuscito a farle passare mi chiedo dove ho sbagliato io piuttosto che porne il problema di dove abbia sbagliato la classe perché per me io la classe non la conosco abbastanza per poter giudicare la vita di tutti poi la classe è un fenomeno molto complesso perché è un fenomeno dove si creano dei gruppi dove subentrano dinamiche che non hanno immediatamente a fare con la lezione eccetera eccetera i professori ognuno ha il suo metodo il discorso che facevi tu secondo me è importante soprattutto fino alla fine delle superiori alla fine alla fine delle superiori diciamo che se un docente non è innamorato dell'insognamento forse c'è un problema può anche essere che però se uno insegna per 35 anni della sua vita magari mano a mano che va avanti un pochino quella passione gli scade perché comunque i docenti devono spesso affrontare anche delle situazioni di cui gli studenti non sanno nulla dopodiché quando si arriva all'università lì c'è un patto diverso secondo me io faccio del mio meglio per darti tutto quello che io penso che sia il tuo diritto avere quindi formazione di buona qualità la miglior qualità che io ti possa dare anche empatia perché mi rendo conto che oggi si diventa vecchi più tardi quindi una persona di 19-20 anni potrebbe essere persa nella vita e ha bisogno magari di capire che non ha davanti uno che gli fa capire che ha finito di vivere se non passano esame e che tutto finirà però c'è un patto che io chiedo anche dall'altra parte tu stai venendo all'università non sei obbligato se vieni all'università lo fai perché mi vuoi venire ad ascoltarmi e se mi vuoi venire ad ascoltare puoi anche voler venire ad ascoltare uno che magari è meno empatico di me perché sei all'università io non penso che il mio metodo di insegnamento sia quello giusto io penso che all'università le basi siano io ti devo dare la miglior formazione possibile se tu vieni lo fai con fatica e sai che davanti avrai una persona che può essere più o meno divertente più o meno simpatica ma finché ti dà quello che ti deve dare la cosa va bene se no tu sei libero di andartene dall'università cioè c'è un patto reciproco io credo intanto io non insegno anatomia patologica io insegno cinema e comunicazione audiovisiva quindi insegno una materia molto umanistica che ha a che fare con l'umanità e mi interessa che il modo stesso in cui io le insegno e le interpreto è una parte di quella formazione cioè io vorrei che le persone che mi ascoltano capissero che il mio approccio al cinema e in generale alla cultura è già una prima cosa che loro possono imparare noi ci possiamo appassionare alle materie le possiamo criticare le possiamo trattare in maniera allo stesso tempo seria ma giocosa però magari invece uno che ti insegna anatomia patologica ti deve spiegare solo molto bene dove sono posizionate le arterie cosa succede se sbatti un ginocchio eccetera capito quindi dipende anche dalla materia e se uno dice questa persona e se quella persona si impegna a insegnartelo ma magari è un po' antipatica ho problemi tuoi cioè tu stai andando lì per imparare anatomia patologica quella persona ti deve insegnare quello e poi farai aperitivo con i tuoi amici e ti rilasserai ultima domanda e poi così puoi andare a lezioni un consiglio che potresti un unico consiglio che potresti dare a uno studente di scienze della comunicazione la nostra cara amica o cara amico che stai studiando scienze della comunicazione o qualcosa di simile troverai attorno a te molte scuole che ti insegnano a fare cose molto pratiche fare i SEO dei social media progettare una campagna marketing che sono tutte cose utilissime però la prima cosa che il mondo valuterà di te sarà se tu sei o meno diversa o diverso dagli altri che sono stati incontrati sono stati visti prima di te quindi impegnati per diventare una persona brillante in un qualsiasi modo tu lo farai impegnati perché il nostro non è un corso immediatamente professionalizzante e questo per molti è il suo svantaggio invece per me è il suo vantaggio tu uscirai di qui e sarai libera e libero e se sfrutti bene questi anni sarai un passo avanti agli altri perché capirai meglio certe cose perché interpreterai meglio certe cose questo ti renderà più veloce degli altri su certe cose quindi non ti scoraggiare e ricordati come diceva Lorenzo il Magnifico che del domani non vero certezza per nessuno vivi sereno grazie Bruno grazie mille grazie a voi buon lavoro partite da crazy time no no grazie a voi grazie a voi grazie a voi